Musica Ciao a tutti ragazzi io sono il Pitox e bentornati finalmente in un video di FNAF R Oggi si ci ritroviamo dopo qualche giorno qui su FNAF R Scusate ma io adesso ho un po' di roba da portare poi non ho neanche più così tanto tempo per il canale, per gli studio e tutto E quindi FNAF R lo faccio ogni tanto Comunque, raccogliamo Piranha Plushtrap a caso Prendiamo poi qua la ricerca di Foxy, perfetto, qua Insomma andiamo alla ricerca di nuovo E direi di iniziare subito con un'esca, si può fare, sì sì Darko Terendo tra l'altro, sì sì andiamo a Darko Terendo Perfect, quante batterie abbiamo? 19, mamma mia Allora, a me è sembrato di vederlo, eccolo qua E si va, perfetto Allora In teore se non endo non dovrebbe essere così difficile Allora Ok Eccoti qua, proviamo Io direi di non... Scusate ragazzi per i miei momenti di dislessione Stavo dicendo, io direi di non usare le torce, cioè perché non ha tanto senso O forse sì Ok Allora 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 Ci muoviamo? Sei circa qua giusto? Non mi sei ancora a passo No Eh no Ah Dopo una settimana questi scherzi non mi piacciono Mi fanno spaventare Che ragazzi in effetti alla settimana è che non gioco a FNAFFER se non di più Come dicevo prima ragazzi se non è una settimana che non gioco forse Quando mi fanno così strano Mi prendo un po' di filo di solito Ecco Allora Non credo che mi abbia dato la skin Infatti perché è una delle più rare di FNAFFER Quindi Non Non credo che la vincerei così a caso Comunque raga Io direi di usare un'altra esca Allora L'ho visto dal quarter che era là sopra Ma un attimo mi riguardo le scherzi che avevo Ok E si va Dar quarterendo Tra l'altro ragazzi tutti lo vogliono secondo me perché è raro Cioè Secondo me se la FNAFFER in Trenament Metteva che Freddi era raro Tutti volevano Freddi Perché solo era raro E' così che fanno anche con le collezioni nelle edicole Secondo me è per questo che lo vogliono tutti Perché ho notato che sul mio server Discord Un po' di persone Volevano il dart Ah comunque Adesso avendo parlato di Discord Vi lascio qua sotto Il link del video di Discord Se non siete ancora nel mio server Discord Assolutamente entrate che Lì si chatta molto A volte c'è anche qualche mia Quindi entrateci Ve lo consiglio Se potete ovviamente Allora Tu però No Tu però Non mi piace più Cosa lanterna Mi sa che è un pesce lanterna All'air quarter Qua Qua Nera E' un'interferenza E' un'interferenza Ma dove sei in tutto questo? Sei qui Ecco qua E' un pesce lanterna Questo l'arco tenendo Ok allora Questa era l'ultima esca che usavo Speriamo di averlo preso E il qualcon'altro Sono tutti toy Balloon boy Che chi c'ha voglia Baby Che chi c'ha voglia Non c'è veramente nessuno da affrontare Vediamo qua le missioni Mi viene animatroni in cerca di risorse Ah Beh Vai Freddy Freddy ci fiede No ho sbagliato Aspettate Ok vediamo qua E Ok Va bene E mette la prova Il tuo disturbatore Ma il disturbatore non esiste più Almeno non credo che esista più Il disturbatore Qual è il disturbatore? E' il misuratore M? Non credo ma E' infatti Ma ragazzi Non esiste più da un bel po' Il disturbatore Ah no Aspetta Ho capito Ma Ci devo spendere Fuzz coins Ragazzi Se anche voi avete questa missione Guardate Ve lo faccio vedere Per esempio Se ho uno tipo Il palloncino Non posso far niente Se invece Ho un altro Tipo Il palloncino Non posso far niente Se invece Ho un altro tipo Un boni Ecco Il disturbatore E' questo che vedete qua E Ho dovuto pagare però 25 Fuzz coins Questa cosa mi ha dato un po' fastidio Bene Intanto qua si è buggato Tutto a Fnaf Air Che bello Non posso fare niente Neanche l'inizione niente Ma porca miseria Ok in teoria Mi si è sbaggato tutto Allora Io qua Ando anche Valora a ricercare Per vedere se mi da le missioni Adesso No Eh quindi Dovremmo aspettare un po' Vabbè Non fa niente E Affrontiamo un altro animatrona Sì dai Questa volta Si affronta Un toy Questa volta Si affrontiamo un toy Non c'ha le esche belle VR Tuoi freddi E si va di freddi Ma si dai Giusto per Si va Ok tuoi freddi Sei pronto tu freddi Non c'è un uomo Non c'è un uomo Non c'è un uomo Ok 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 Ti prego no Non farmi una Chamsker Dove sei Eccoci qua Mamma mia Ok Ok No 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 ragazzi Ho capito Ho capito però il mettero per fare Per combattere i toy No ma troppa agitazione Ma non si può No Mamma mia che ansia Ma io devi provarci di nuovo Non i transponder Tetto I freddi Delle balle Allora Usiamo Prendiamoci tre Schemmassi Ma I fadscoi servono questo E Tuoi freddi Dove Sei Eccoti là lontano Cerca di una famiglia No No Poi Dove sei Ok 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 Non mi freghi Non mi freghi Non mi freghi più Piccolo Giocattolo per bambini No Non mi freghi più Basta Eccoti qua Dai No Sei di qua Eccoti qui Ok Ragazzi Io non credo che Questa partita Riesca ad avere un assunto Qualcosa Non so neanche se la riesco a vincere Non mi freghi più Quello infame Eccoci qua Ok Ok Dai 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 tu pensi che sei ok dai infame infame che non sei altro eccoci si vai così raga abbiamo sconfitto toy freddy sei riuscito finalmente a sconfiggere un toy che bello finalmente ho raggiunto uno dei miei obiettivi wow anche se non ho avuto la tuta felpata ragazzi posso dirvi finalmente che ho sconfitto un toy ho capito finalmente il metodo che in realtà me lo dicevate sempre tutti che era così ma io non capivo mai perché probabilmente sono un bimbo stupido oggi ho provato a fare quello che mi avete consigliato e ce l'ho fatta grazie veramente vi ringrazio beh io dire che per oggi è tutto abbiamo raggiunto un grande obiettivo e ci vediamo la prossima volta con un altro video ciao ciao